ciao a tutti con questo video vi vorrei spiegare cosa sono gli aux in logic e come utilizzarli nel vostro nei vostri progetti allora innanzitutto gli aux sono dei canali ausiliari che servono per mandare il segnale in diversi altri canali che ne so ad esempio ad un micro mixer ad un microfonico se siamo in una situazione live potremmo voler mandare dei segnali al fonico palco o al fonico piei oppure mandare i segnali in una control room oppure in uscita separata delle cuffie del cantante e potremmo utilizzarli anche per gestire degli effetti la differenza rispetto a un bus è che il bus se volete semplicemente farvelo semplice nella testa il bus è un percorso è un cavo e serve per mandare il segnale ad esempio un ausiliario partiamo dalle basi se io apro il mixer io avrò i miei canali tutti i miei canali questi qua sono sono le mie tracce che mi vanno tutte in uscita allo stereo out questo momento qua non c'è nessun ausiliario immaginiamo che io ho comprato un effetto fisico un effetto costoso che ne so un riverbero dalla lexicon da quasi 2000 euro poi un compressore non virtuale quelli veri quelli reali non è che per ogni canale che utilizzo metterò un compressore diverso che o sono milionario o sono pazzo perché quello che mi servirà è averne soltanto uno collegato in un ausiliario e lo manderò poi dove mi serve facciamo un esempio andiamo a cercare la voce qua andiamo colorare le tracce in una maniera un po più color track by region color ok così ce l'abbiamo anche qua le vocal dovrebbero essere queste ok immaginiamo che io a queste voci voglio aggiungere un riverbero ma che lo stesso riverbero lo voglio poi mettere anche qua nessuno mi impedisce di mettere il mio riverbero c'è un esempio prendiamone uno a caso un dance studio questo qua di copiarlo e di metterlo anche qua ma questo mi occupa risorse perché invece con riverbero ne ho già due attivi molto più utile e utilizzare gli ausiliari come io vado qui e attraverso i send cioè le mandate io dico attraverso un bus il bus immaginatelo come un cavo va a un auxiliario io quando creo un nuovo bus logic in automatico mi crea gli ausiliari bus 10 ecco che mi ha creato un aux aux 1 che adesso io vado a chiamare riverbero quindi dimentichiamoci questi riverbero immaginiamo il famoso riverbero su cui ho speso i miei risparmi e lo vado a mettere qua questo riverbero qua mi permette adesso se opportunamente regolato in wet al 100% ovvero sempre attivo con il suo fader in posizione centrale posso regolare quanto effetto voglio mandare a questa voce o a questa che questa bus 10 riverbero andiamo qua in un passaggio dove ci sono entrambe le voci anzi facciamo così faccio che metterla direttamente qua e facciamo prima ecco che entrambi stanno utilizzando lo stesso riverbero che solo uno solo uno piazzato qua e sono io che decido quanto farlo utilizzare quanto riverbero effettare le due voci indipendentemente con logic x ho anche la possibilità di vederlo attraverso dei fader gialli se io vado qua e clicco senza un fader e definisco cosa voglio vedere ecco che queste manopole corrispondono esattamente alle mandate in bus su cui ho mandato i miei effetti posso anche creare gli ausiliari da option crea new auxiliary channel slip ad esempio questo a cui vado per esempio a collegare un delay gli do un bus come riferimento tipo bus 5 i quali dico mettimi un delay che mi piace tantissimo tipo questo regolato al massimo questo posizionato come mi interessa cioè centrale andiamo a mettere il delay nella batteria giusto per giocare qua vado regola a selezionarmi il delay ecco che la manopola è tutta in basso stesso principio vale per le uscite cuffia perché se io voglio mandare in cuffia un ipotetico cantante tutto il mio mix ma se il cantante mi dice a un certo punto abbassami un po' questo beat io se lo faccio qua dal mix rischio di compromettere compromettere un mix che magari ho fatto bene in ore quello che mi conviene fare invece è utilizzare un bus e un ausiliario facciamo un esempio bus 20 cuffie le cuffie avranno come ingresso un bus ma come uscita un'uscita indipendente della mia interfaccia questa è la cuffia del cantante io vado a selezionare tutti i suoi canali in bus 20 e dal momento che non voglio che siano influenzate dalla posizione dei fader dico pre fader così facendo il mio sottomix delle cuffie sarà influenzato soltanto dalla posizione dei fader cuffie osservate ho fatto una stupidaggine devo dirgli tu vai da solo qua ecco qua che adesso il mio cantante per simularvelo devo far così devo far finta che non mi esca niente qua e fate finta che questa sia l'uscita indipendente del mio cantante il mio cantante in cuffia sentirà soltanto questo questo sarà il suo mix personale questo sarà il mix invece che uscirà fuori spero di essere stato abbastanza chiaro ringrazio il forum facebook logic pro italia gestito da marco tonelli e buona giornata a tutti ciao 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 ciao